Abbiamo appena terminato una call con il Comune di Mantua nel quale ci sono stati comunicati i cantieri che verranno messi in essere o continuati nel 2021. Diciamo che abbiamo appreso con piacere che non ci saranno dei cantieri impattanti sulla viabilità mantovana per quanto riguarda quest'anno ma dei cantieri un attimo così in esterna. Ci fa sempre piacere di essere comunque contattati e partecipare a queste decisioni perché comunque si denota una sensibilità a quella che è la situazione commerciale mantovana in questo momento.